La mia situazione un anno fa, prima dell'approvo all'Energeti Club, era un disastro su tutta la linea, facendo, completo. In un anno la mia situazione è cambiata da così a così. Ho creato una società mia, ho un lavoro dove guadagno bene, faccio quello che amo. Quindi il cambiamento che ho avuto io in nove mesi è stato stupefacente, stupefacente su tutta la linea. I miei amici mi chiedono persino come cavolo ho fatto in nove mesi.